Eccoci ancora a vedere insieme i nostri cartoni animati di campi elettromagnetici in pillole. Oggi parleremo della polarizzazione, in particolare, questa volta i cartoni animati, come vedrete, faranno il loro dovere, visualizzeremo la polarizzazione in propagazione. Ovviamente il tipo di polarizzazione che più si presta a questa rappresentazione scenica è la polarizzazione circolare, con i suoi due versi, che chiameremo orario e anti-orario, si possono anche indicare con un'altra notazione come sinistrosa o destrosa, a me non piace molto questa notazione, però è un'opinione personale. Volevo invece sottolineare il fatto che questi due tipi di polarizzazione circolare costituiscono in realtà un insieme completo, nel senso che per la linearità ogni polarizzazione, la più generale, sarà ellittica, può esprimersi come sovrapposizione di queste due polarizzazioni circolari nei due versi. Allo stesso modo, naturalmente, anche la polarizzazione lineare può rappresentare un insieme completo, quindi possiamo prendere due polarizzazioni lineari ortogonali e, in termini di queste, rappresentare una generica polarizzazione. Quindi la scelta di una polarizzazione lineare o di una polarizzazione circolare, in un esempio, non è mai una perdita di generalità, perché ogni polarizzazione si può esprimere in termini di queste polarizzazioni elementari. Allora, qui vediamo la polarizzazione sinistrosa, che è associata alla rotazione oraria. Siamo in coordinate cartesiane, vedete qui sul piano trasversale, è molto semplice. Cosa accade quando andiamo in tre dimensioni? Quindi andiamo a considerare la propagazione nella direzione longitudinale z, vedete se il verso è quello delle z positive, di nuovo abbiamo questa polarizzazione sinistrosa oraria. La cosa a cui dobbiamo fare attenzione è che naturalmente quando cambia il verso, le polarizzazioni si interscambiano, perché un verso orario in una direzione diventa anti-orario nella direzione opposta. Ecco, quindi se lo stesso vettore si propaga nel verso negativo, abbiamo stavolta la polarizzazione destrosa, associata al verso anti-orario. Di nuovo, a destra il piano trasverso, a sinistra il caso tridimensionale. Quindi polarizzazione destrosa, rotazione anti-oraria, cambiando il verso di propagazione, questo riepilogo cambia la polarizzazione del vettore. Ecco i nostri titoli di coda, ancora una volta l'autore Giacomo Palombi, i docenti, i tutori, il professor Paolo Bassi e l'ingegner Chiara Zaniboni. Vi do appuntamento alla prossima occasione, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.